I carabinieri del gruppo tutela agroalimentare di Salerno, in collaborazione con la sezione forestale di Avellino, ASL e con l'ICQRF di Salerno, hanno eseguito una maxi operazione presso due aziende a tutela dei diritti dei consumatori e degli operatori del settore agroalimentare tra l'Irpinia e il Salernitano. Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato 25 tonnellate di albicocche fresche, destinate alla produzione di succhi che venivano avviate all'immediata distribuzione, perché condotte su un automezzo adibito al trasporto di rifiuti. I carabinieri hanno sequestrato anche 230.000 barattoli di asparagi lessati, pari a circa 76 tonnellate di prodotto, dichiarati in etichetta come prodotti in Italia, mentre in realtà risultavano provenienti dal Peru. Nel corso delle distinte operazioni sono state riscontrate violazioni amministrative e contestate sanzioni per 11.098 euro.